Il primo vero freddo invernale sta per arrivare sul Veneto. Sulla base delle previsioni meteo emesse dall'ARPAV, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per neve e gelate su tutto il territorio a partire dalle 8 di giovedì 13 dicembre fino alle 10 di sabato 15 dicembre. Le previsioni elaborate dall'ARPAV indicano tra giovedì e venerdì modeste e nevicate sulle zone montane fino ai fondovalle e sui colli. Sulla pianura generalmente piogge a tratti miste a neve con possibilità di qualche temporaneo accumulo nevoso scarso, più probabilmente in prossimità dei rilievi vicentini e padovani e sulla pianura sud-occidentale. Gelate e notturne sulle zone montane e sulla pianura nella notte tra venerdì e sabato.